Sono nato nel 1417. Dopo aver partecipato come soldato e poi come ufficiale alle guerre contro Giesburgo, mi sono sposato. E dalla mia unione con Dorotea sono nati dieci figli. Sono stato giudice, consigliere e deputato alla dieta federale. Abbiamo bisogno del tuo consiglio. Perché sei più saggio. Nel 1467 chiesi a mia moglie il permesso di ritirarmi a vita eremitica. Mi chiama. Lo sento. Ho vissuto in meditazione e il mio posto è qui, al servizio di nostro Signore. E nonostante fossi analfabeta, molte persone, anche importanti, vennero a chiedermi consiglio. Dicono di me che quando parlavo, le mie parole sembravano venire da Dio in persona. Gli uomini sono malati nel profondo del cuore. E ancora oggi, molti pellegrini vengono in preghiera al mio eremo. Il mio nome è Nicolao della Flue, santo della Chiesa Cattolica e patrono della Svizzera. Gli Svizzeri, prossimamente alla RSI.